Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al mio nuovo video! Nostro! Io sono Gabri! E io sono Sanghi! E questo è MainaGioia! Pubblichiamo nuovi video ogni settimana e anche oggi parleremo del mondo di Don't Start Together dove l'unica certezza è che qualunque cosa incontriate vuole uccidervi e soprattutto se una cosa può andar male andrà sicuramente... PEGIO! Come tutti saprete... Forse... Sì... Magari... Bè... Il 24 marzo è finalmente uscito il tanto atteso aggiornamento Quality of Life Yeah! Di febbraio, ma vabbè è uscito a marzo Questo update comprende diversi aspetti del gioco dal nuovo menu di crafting alla modifica di alcuni boss ed è stato pesantemente rivisto il rework di Wolfgang di dicembre che aveva tanto fatto discutere la community di DST Con questo aggiornamento sono state talmente tante le modifiche al PG che potremmo tranquillamente parlare di un rework 2.0 In questo video parleremo nel dettaglio proprio di questo ma continuate a seguirci perché nei prossimi giorni pubblicheremo altre guide per esplorare tutti i cambiamenti di questo enorme aggiornamento Ma non lo so se c'ho voglia Ma tornando al nostro energumeno preferito per prima cosa dobbiamo dire che non sono state modificate le sue statistiche e neppure gli è stato ridato il tanto discusso bonus alla locità in forma Mighty Non è stato cambiato neppure il modificatore di danno quando siamo potenziati Per fortuna! che è costantemente raddoppiato finché il Mighty Meter sarà sopra il 75% Invece la nostra protezione naturale contro il freddo in forma Mighty sarà soltanto di più 30 mentre pattiremo maggiormente il caldo con meno 30 Saremo però il 30% più efficaci nel lavoro Basteranno 4 colpi per minare una roccia anziché 6 e 10 per abbattere un albero anziché 15 E' stato invece eliminato il discorso della possibilità del colpo critico del primo aggiornamento E sempre in forma Mighty ora saremo bravissimi a trasportare oggetti pesanti come statue, giant crops e semoni poiché non suberemo nessun malus alla velocità mentre le trasportiamo Una bomba! Sì, ma soprattutto se trasportiamo questi oggetti non perderemo Mighty se basterà tenerli in spalla per mantenerci in perfetta forma E ricordiamo che non verremo rallentati da Marble Suit o Piggybacks e saremo Mighty come già accadeva nel primo aggiornamento Per quanto riguarda la forma Wimpy avremo una piccola protezione al caldo di più 30 ma saremo più sensibili al freddo, meno 30 Saremo anche dei lavoratori più scadenti con il 30% in meno di efficacia Ci vorranno 8 colpi per minare una pietra e 20 per abbattere un albero Ora faremo 75% come Wendy e Wes mentre prima facevamo solo il 50% Cioè è un traguardo fare gli stessi danni di Wes? Cioè, ma eravamo peggio di chiunque! Sì E ora guadagneremo forma fisica molto più facilmente perché otterremo punti Mightyness anche lavorando e menando le mani non solo in palestra Otterremo 0,25 Mightyness a colpo se usiamo un martello 0,50 con ascia e remo 1 se zappiamo o miniamo la pietra 1,5 scavando turf con il forcone 2 se scaviamo con la pala o issiamo le vele Otterremo anche 2 punti aggiuntivi se clicchiamo su O nel momento giusto Ma la cosa maggiormente rivista sono i pesi Innanzitutto non perderemo Mightyness se ci sposteremo tenendoli in mano Inoltre la loro resa è stata notevolmente migliorata Il peso di pietra, ovvero quello base con cui sponiamo a inizio partita si costruisce sempre con 4 pietra e un rametto ma ora ha 125 usi come attrezzo ginnico Ci ridà 3 punti Mightyness fino al 75% dopo 1,5 Giusto per fare un paragone il peso che avevamo prima ci dava 0,3 quando eravamo Mighty quindi è stato veramente potenziato Come arma invece il danno è stato leggermente diminuito 17 danni contro i 27 di prima che ovviamente subiranno il modificatore a seconda della forma In forma Mighty e normale potremo usare il peso corpo a corpo come arma e avrà 62 usi mentre se saremo Mighty potremo anche lanciarlo ma avrà soltanto 13 usi Come arma da lancio fa un po' schifo però Il peso d'oro ora si costruisce con 4 oro e un rametto ha 200 usi come attrezzo 100 come corpo contundente e 20 come arma da lancio e fa 27,2 danni Beh mi sembra che abbiano depotenziato pure questo Come danni sì ma come peso ora otteniamo 5 punti Mightyness a sollevamento se siamo deboli 3 se siamo normali e 1,5 quando raggiungiamo la forma Mighty Ah vedi vuol dire che non dovremo più passare ore ed ore ed ore in palestra? È il mio sogno! Un cambiamento molto interessante è l'aggiunta del peso di marmo che si fa con 4 pezzi di marmo e un rametto Questa attrezzo ha ben 334 usi come peso 167 come arma corpo a corpo e 34 come arma da lancio Fa 34 danni ma se corriamo tenendolo in mano ci rallenterà del 10% se non siamo in forma Mighty Se lo usiamo per allenarci guadagneremo 5 punti Mightyness a sollevamento sia in forma debole che normale Raggiunta la forma potenziata guadagneremo 3 punti Ma è fortissimo! Beh è anche facile da costruire visto che ora la Gembell è stata resa un pochettino più costosa Il top gamma dei nostri attrezzi ginnici ora richiede 2 di tulecite una gemma viola e un rametto e questo significa che non potremo costruirla finché non avremo esplorato le ruin La Gembell ora ha 500 usi come attrezzo 350 come arma corpo a corpo e 70 come arma da lancio e fa 42,5 danni In allenamento ci darà sempre 5 a sollevamento e questo significa che basteranno 20 alzate per passare da 0 a 100 Per quanto riguarda invece la palestra il crafting non è cambiato sempre 4 assi, 2 pietre tagliate e 3 corde Anche questa è stata decisamente potenziata ma eviteremo di stare a menzionare tutti i valori dei pesi Ci basti sapere che con il minimo del peso i sacchi di patate con cui la costruiremo otteniamo più 4 ad alzata normale e 6,7 con quella perfetta Ma come? Ma non c'è quella perfetta! Eh vabbè la perfezione non è di questo mondo Con il massimo dei pesi invece carico 8 con due statue dei boss guadagneremo 6,7 maintenance con alzata normale e 10 con alzata perfetta Giusto per fare un paragone prima guadagnavamo 3,3 con alzata normale e 6,6 con alzata perfetta sempre equipaggiando un carico 8 E allenarci in palestra ci farà venire anche un po' meno fame Il modificatore della fame con il minimo del carico sarà del 4x mentre con il massimo del carico sarà del 22x anziché 28 Beh diciamo che comunque è una discreta perdita di stomaco Vabbè comunque se non hai voglia di andare in palestra puoi sempre menare le mani Con l'aggiornamento ora potremo guadagnare 0,5 maintenance ad ogni colpo mentre siamo in combattimento Evviva! Mi vuoi dire che adesso non dovrò più chiedere ai mostri di aspettare un momentino che mi devo tonificare il bicipite e poi posso tornare a picchiarli? No! Ora non sarà più necessario Il guadagno di maintenance in combattimento non è influenzato dal danno inferto né dalle armi che usiamo Se invece usiamo i pesi picchiare con il peso di pietra o d'oro ci farà guadagnare un punto al colpo con quello di marmo 2 e con la gembell 3 Bisogna dire però che per compensare la facilità con cui guadagniamo mightiness è stata aumentata anche la velocità con cui questa diminuisce sia in base al tempo che a quanto è pieno il nostro stomaco Con lo stomaco al massimo perderemo circa un punto mightiness ogni 10 secondi Se invece sarà quasi al minimo perderemo un punto ogni 2 secondi Bene direi che con questo abbiamo concluso l'analisi del re re rework di Wolfgang e che a nostra parere l'ha reso decisamente più giocabile Infatti prima se ci dedicavamo per qualche giorno alla raccolta di risorse o coltivare i campi rischiavamo di trovarci con la forma dello stracchino scaduto all'arrivo di Aund o di qualche simpatico boss stagionale e a volte non c'era proprio il tempo di allenarsi rendendoci inutili proprio nel momento in cui avremo avuto bisogno di tutte le nostre forze Ma ora potremo dimenticarci di tutto questo o quasi Se volete un fisico scolpito lasciate perdere la palestra e allenatevi a tirare giù alberi o a mennare le mani Ma Gabri questo non è un consiglio che stai dando per davvero, vero? 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 Ma, chissà E da manager è tutto per oggi spero che questa guida vi sia stata utile Speriamo! Grazie alla visione se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace se non vi è piaciuto un non mi piace e magari un commento in proposito così potremo migliorare i nostri contenuti Se avete paura di allenarvi come dei pazzi tutto l'inverno per avere la tartaruga e invece alla prova costume ritrovarvi con il carlino l'unico modo per evitarlo è iscrivervi al canale e cliccare la campanellina per rimanere sempre aggiornati Anche venire a trovarci nel nostro server Discord o su Telegram potrebbe funzionare Se invece ci seguirete su Twitch ricordatevi che sul nostro canale attiva la campagna di drop di DST fino al 4 aprile quindi se avrete ad ascoltare i nostri sproloqui sarete ricompensati con queste bellissime skin Tuoi Nostri E soprattutto se vi piace il nostro canale e volete darci tutto il vostro sostegno potete venirci a trovare nel nostro Patreon e scoprire tutte le esclusive create per voi Ci vediamo al prossimo video e mi raccomando Non morite di fame!